Siamo alle nostre breaking news, subito in apertura, un altro caso di violenza a proda in tribunale, un quarantenne, l'ipotesi d'accusa sarebbe quella di aver molestato una ragazzina durante una festa. Sono stati tre i casi approdati questa settimana, ricordiamo anche il numero istituito dal comune, il 1522 proprio per segnalare casi di questo genere. Parliamo poi di Saione, la cosiddetta zona 30 si è arricchita di nuove piste ciclabili, di spazi per i pedoni, ci sono state alcune polemiche ma in realtà anche in passato c'erano state richieste proprio per le piste e sono interventi che al termine dei lavori, ha detto l'assessore, assicureranno sicurezza proprio per tutti. Chiudiamo con un evento, quello che si consumerà sabato e domenica per le strade, le vie e soprattutto anche i boschi di Castiglion Fiorentino, la Ronda Ghibellina, un'edizione anche quest'anno molto spartana a causa della pandemia ma con molti partecipanti, una corsa con varie specialità che si svolge totalmente all'aperto. Queste le nostre notizie che potrete trovare nei nostri Tg ma anche sul nostro sito. Grazie e arrivederci.